nome iuri silvia età 44 come gatti 36 ruolo consulente personale presso la filiale di monza 1 account rete automotive azienda agos spiega cosa fa agos con una frase aiuta le persone a realizzare i propri progetti visto quello che ha detto iuri lo facciamo con prestiti personali finanziamenti carte di credo e tanti altri prodotti conosci iuri iuri chi scherzo ciao iuri ciao silvia come spiegheresti il tuo lavoro ad un tuo amico cerchi insieme ai clienti la soluzione migliore alle loro esigenze ascolto le esigenze nei nostri partner convenzionati cerco insieme a loro soluzioni per i loro clienti e li porto a scegliere agos per ratezzare le loro vendite come spiegheresti il tuo lavoro ad un bambino faccia avere i soldini alle persone e loro li ridami indietro un po alla volta ea tua nonna nonna agos paga la tua auto e tu la rimborsi poco alla volta bello è la parte più bella del tuo lavoro beh sicuramente la diversità dei clienti perché ognuno ha la sua storia ti coinvolge ti appassiona e sembra che non abbia mai fine quella più brutta ti coinvolge ti appassiona e sembra che non abbia mai fine è praticamente il rovescio della stessa medaglia allora noi abbiamo una squadra di calcio di agos quindi sicuramente la cosa più brutta è perdere contro le altre finanziarie che consiglio daresti ad una ragazza che vorrebbe intraprendere il tuo percorso di portare la sua freschezza ma nello stesso tempo anche di ascoltare chi ha più esperienza se è un'attitudine commerciale non fermarti mai davanti al pregiudizio che questo sia un lavoro prettamente maschile buttati e crede nelle tue potenzialità descrivi la tua azienda con tre aggettivi dinamica flessibile e moderna solida affidabile e green un valore che ha in comune con la tua azienda passione lo spirito di squadra dedica una canzone ad agos io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo don't stop me now dei queen poi se volete vedere pioggia grande ne neve io ve canto il tuo motto cogli l'attimo carpe diem da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano ciao a tutti e vi aspetto a monza ciao a tutti è finita vero grazie a tutti